A proposito di questi giovani che hai conosciuto sul palco, con quali avresti fatto una collaborazione da portare magari a Sanremo? Alcuni giovani proprio non li conoscevo, non mi dispenserebbe cantare e fare un duetto con Madame, come con Ermal Mezzal, ma come anche con Inazis Kim. E a proposito di questi giovani...